Il Consiglio regionale ospiterà a Palazzo dell'Emiciclo lo sportello Fira Oriente in un ufficio sotto al coronato dell'Emiciclo, un presidio grazie al quale la finanziaria regionale abruzzese sarà più vicina al territorio e alle sue esigenze per essere una torevole consulenza per imprese professionisti. L'inaugurazione all'Aquila a Palazzo dell'Emiciclo alla presenza del vicepresidente Roberto Sant'Angelo che si è fatto portavoce delle stanze del territorio, del presidente della Fira Giacomo D'Ignazio e del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. Il Consiglio regionale è sempre più centrale nelle dinamiche del capoluogo di regione. Io devo ringraziare il presidente di Fira Giacomo D'Ignazio per aver creduto in questa progettualità e di aver ascoltato la mia richiesta di aprire anche nel capoluogo di regione all'Aquila lo sportello di Fira. Fira è una società in house della regione Abruzzo poco conosciuta nelle aree interne. Noi speriamo in quest'ottica che le imprese di questi territori, le partite IVA, possano trovare delle risposte anche economiche per avviare e rinnovare le proprie aziende. Da oggi presso l'emiciclo e il Consiglio regionale d'Abruzzo sarà aperto uno sportello di Fira Orienta che non rientrerà solo per i pacchetti finanziari, strumenti finanziari della regione Abruzzo, ma anche di tutte le opportunità che sono, diciamo, sui vari bandi nazionali. Fira Orienta sarà una vera e propria consulenza ideata dalla finanziaria regionale abruzzese per essere di supporto alle aziende nell'individuare i vari finanziamenti pubblici in essere e saper poi scegliere quelli più adatti alle rispettive esigenze. Questo perché la finanziaria abruzzese gestisce anche bandi rivolti alle imprese e ai professionisti allo scopo di sostenere la politica di sviluppo socio-economico della regione Abruzzo. Lo sportello Fira Orienta sarà a disposizione delle imprese, dei professionisti, dell'Aquila e di tutte le aree interne. Sarà a disposizione per dare consulenza e per spiegare i bandi, per rendere note le opportunità che vengono dalla regione Abruzzo, dall'Italia e anche dall'Europa. È importante che venga attivato uno sportello anche nelle aree interne per allargare sempre più la platea di utenza. Allora è un'esigenza dovuta dalle richieste che abbiamo avuto e in collaborazione anche con il vicepresidente del Consiglio regionale Sant'Angelo abbiamo deciso di sposare questo progetto e dare un servizio alle aree interne e all'Aquila, soprattutto avvicinandoci alla pubblicazione del bando Restart Fare Imprese che sarà pubblicato nei prossimi giorni.